Di Giulio, che in questo momento è con il sindaco Gianluca Gaetano, il sindaco di San Ferdinando. Buongiorno Tatiana e buongiorno sindaco. Sì, buongiorno. Subito poniamo l'accento sul fatto che questa famiglia era già attenzionata dai servizi sociali. Per un episodio accaduto un anno fa, che ora ci racconterà proprio il sindaco. Sì, buongiorno innanzitutto. Questa famiglia era attenzionata, era sotto tutela dei servizi sociali, perché è evidente la condizione di disagio e anche di degrado. E poiché una delle figlie aveva partorito circa un anno fa due gemellini, ci siamo attivati affinché questi ultimi fossero affidati al padre, che sicuramente può garantire una crescita più sana e più sicura a questi due piccoli. Tornando invece alla problematica relativa alla donna a 30 anni, molti vicini ci hanno raccontato di aver udito urla, spesso si sentiva litigare, spesso la si vedeva anche con dei lividi al volto. A voi è mai arrivata qualche segnalazione? Certo che non è arrivata. Se fosse arrivata saremmo intervenuti noi, anche con una denuncia alle forze dell'ordine, forze dell'ordine che hanno condotto un'indagine che ha svelato la verità su questi orrori e che ringraziamo pubblicamente. Però ovviamente tutti noi ci dobbiamo interrogare e ci dobbiamo rimproverare come società. perché queste cose devono venire fuori solamente nella fase patologica e non possiamo attivare prima le antenne in modo che determinate cose non avvengano e possano essere prevenute? È un interrogativo che io pongo a me stesso, ma pongo a terra comunità. Certo, Sindaco, è molto giusto. L'unica cosa, ma se... Scusa Tatiana, è molto giusto Sindaco, però una piccola perplessità ce l'ho. Chiedo aiuto alla dottoressa Abruzzone, dottoressa Viola, prima poi alla dottoressa Abruzzone e poi le ridò la parola. Ma se la famiglia era attenzionata ai servizi sociali, una volta in quella casa ci saranno andati, visto che hanno parato via due bambini e li hanno affidati al padre? Esattamente quello che avrei chiesto io al Sindaco. Ah, ecco, no, perché chiedono male. Nel senso che se hanno ritenuto giustamente che quello non fosse un ambiente idoneo per due piccolini, vuol dire che la famiglia risultava fortemente problematica. Non sono decisioni che si prendono così alla leggera, all'allontanamento dei due piccoli dalla mamma. Dunque, se si arriva a questo punto, era chiaro che la famiglia aveva dei grossi problemi. Mi domando, ma la condizione di questa sorella maggiorenne, sì, vero, però con dei grossi problemi, è ridotta in stato di schiavitù? C'era anche un lucchetto addirittura fuori dalla porta della sua stanza, da quello che viene raccontato dottoressa Abruzzone. Cioè, ci sono dei segnali, cioè, possono i servizi essere impermeabili ai vicini, alle voci di paese? Cioè, stiamo parlando di un paese comunque molto piccolo. E questo è il discorso, a di là, diciamo, di quello che può essere, dal punto di vista della procedura, quello che si può fare o meno dal punto di vista del servizio. Qui, però, parliamo di una realtà estremamente, diciamo, ridotta, un contesto familiare noto come altamente disfunzionale, perché, insomma, prendendo una decisione del genere, chiaramente ci dice che il nucleo è proprio devastato, pare obiettivamente anomalo che non si sia notato che intanto c'era un'altra persona molto fragile all'interno di quel nucleo, ok? E che fosse sottoposta a trattamenti evidentemente non idonei, anche perché, ripeto, già la condizione, insomma, abitativa la dice lunga. Le urla che abbiamo sentito all'inizio del servizio ci dice che è una situazione veramente molto seria. Non tutti ci hanno accorto, diciamo. No, ma, chiaro, cioè, era già un indizio molto chiaro della collocazione di questa vicenda. Obiettivamente, insomma, mi pare davvero anomalo che non fosse emerso nulla e quantomeno che i servizi non abbiano avuto sentore che ci fosse anche nell'altro. Non è uno stato di messa d'accusa, di accusa dei servizi, è una domanda. Sono certe che hanno fatto tutto nella migliore maniera possibile, però, ripeto, resta il fatto che obiettivamente faccio fatica a pensare che qualche indicazione non fosse già presente quando c'è stato fatto l'allontanamento dei minori. Roberta, tu sai meglio di me che si cerca sempre all'interno della famiglia prima una risorsa per affidare due bambini più piccoli. Quindi, il minimo di accertamento sarà stato fatto. Quindi, escludi ogni persona. Vi sento tutti subito, ma prima sentiamo il sindaco. Se, diciamo, si è dato una spiegazione, ha sentito i servizi, si ha, diciamo, già delle relazioni che ha potuto visionare. Guardi, sì, certamente. Quello che dite è corretto. È inutile nascondersi dietro un dito. È evidente che qualcosa non ha funzionato, però è altrettanto evidente che se tutto ciò fosse stato in chiaro, se fosse stato possibile avere evidenza di quello che accadeva in questa casa, non ci sarebbe stato bisogno di condurre un'indagine di polizia che è durata sei mesi. Quindi, voglio dire, noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Dal punto di vista amministrativo mi sento molto tranquillo perché so che i servizi sociali del Comune hanno fatto ciò che era nel loro dovere di fare. Mi pongo e pongo a tutti un quesito e non interrogativo di natura politica, che è questo. Com'è possibile che in una piccola comunità non ci siano allarmi sufficienti in modo da prevenire situazioni del genere? E questo faccio anche un mea culpa, non ho problemi in questo. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, ma secondo me quello che non ha funzionato è un cordone di protezione sociale che dobbiamo tutti fare uno sforzo affinché si attivi per il futuro. Di situazioni come questa ce ne sono a San Ferdinando, magari ce ne sono anche delle altre e ci sono magari in tutte le città d'Italia. Ed è su questo che dobbiamo fare tutti uno sforzo per superare quello che è un fenomeno, secondo me, legato all'indifferenza, legato alla non curanza, legato alla non attenzione a quello che succede magari molte volte a mezzo metro da noi. Devo dire parole molto pesate, molto opportune. Una testimonianza finalmente di una buona politica, un sindaco che fa autocritica, che fa un ragionamento così razionale, così serio, così rigoroso e tra l'altro mette veramente al centro del dibattito il problema, perché il problema è il cordone di omertà. Cioè qui è chiaro che la gente sapeva, è impossibile pensare, io non so sindaco se è d'accordo, ma credo proprio di sì, che la gente non potesse sapere, la gente sapeva, ma non ha parlato. Prego, dica. Guardi, io non posso spingermi a dire se la gente sapesse o non sapesse perché non sono in possesso di questa informazione. Sicuramente se qualcuno sapeva e non ha parlato ha avuto una condotta molto grave, una condotta su cui chiunque lo abbia fatto deve essere richiamato alle proprie responsabilità. Io quello che posso dire è questo, noi eravamo a conoscenza della situazione di degrado e di disagio di questa famiglia. Premetto anche che noi siamo in carica da pochi mesi e quindi la nostra possibilità di azione è molto ridotta. Però tuttavia anche in questi pochi mesi ci siamo dati da fare al di fuori di ogni forma di autoelogio, oltre ad avere messo in sicurezza questi due piccoli gemelli. Abbiamo anche attivato un servizio tramite una cooperativa, abbiamo sottoscritto a dicembre, il servizio partirà tra pochi giorni, proprio per essere vicini, per garantire prossimità alle situazioni di disagio. Situazioni di disagio che molte volte non sono neanche così palesi, perché tutto ciò che non è formale, tutto ciò che non è affidato ai servizi sociali sfugge molte volte anche alla consapevolezza di tutto. Il sistema non è rilevato. E per questo motivo noi adesso abbiamo fatto, abbiamo no, le dico, abbiamo fatto un censimento per, come dire, elencare, avere contezza delle situazioni anche di malessere psicologico, di malessere umano, in modo da poter dare una mano mandando qualcuno a dare anche un semplice conforto morale. A volte basta, il conforto morale è importante, però il controllo... Siamo arrivati troppo tardi. Su questo non c'è alcun dubbio, però il controllo deve essere preventivo. Cioè una ragazza di 30 anni viene sistematicamente, avvocato Cassani, massacrata di botte, che addirittura ci sono dei punti dell'ordinanza di custodia cautelare in cui questa ragazza chiede di poter andare a comprarsi un panino, perché gli viene vietato anche di aprire il frigorifero di casa e non la fanno uscire perché è talmente rovinata di botte che hanno paura che la gente la veda, no, con tutti i lividi in faccia. Ma quando consentimi innanzitutto di complimentarmi con le parole del sindaco, quindi con il sindaco, perché ha detto la cosa più importante. Noi viviamo la malattia del secolo che si chiama indifferenza. Non c'è legge che tenga davanti all'indifferenza delle persone, perché è un tema di violenza in famiglia, quindi violenza contro le donne, ma violenza contro i congiunti, spesso e volentieri. C'è la complicità del vicino di casa che fa finta di non sentire. Ma hai sentito le urla che hanno rivolto alla nostra indiata? Noi siamo un paese dove ognuno pensa ai fatti suoi, dove addirittura quando li devi citare e testimoniare certe persone, devi vedere che succede. Devo chiamare i carabinieri per fare l'accompagnamento coatto. Sai quante volte devo fare distanza al giudice perché il vicino di casa non vuole venire a testimoniare? Cioè il problema è un fatto culturale. Noi possiamo cambiare le leggi, possiamo avere i migliori giudici, i migliori tribunali, ma se non cambia la gente, la cultura della gente, non usciamo fuori. Non c'è dubbio. Monica Leofreddi. Però scusa, io voglio dire, forse è tardivo, però questa segnalazione è stata fatta da un vicino allo zio, non è che è stata fatta dalle istituzioni, quindi comunque... Qui c'era una ragazza che aveva anche un deficit oltretutto, quindi immagino che sarà stata seguita a sua volta, che avrà percepito forse una pensione, un sostegno, un qualcosa, quindi comunque parliamo già di una persona che per lo Stato doveva essere una persona debole e fragile. Questo vicino, io non vorrei perché, come nel caso di Marzia anche, ricorderete, è stata la sorella a segnalarlo, nonostante anche in quel caso ci fossero i servizi sociali, quindi non stiamo sempre a colpevolizzare gli altri, perché questa volta la segnalazione è stata fatta, no, però dico in questo caso la segnalazione è stata fatta comunque da un vicino, quindi secondo me è importante, forse è troppo tardi. A fronte di un vicino che ha segnalato ce ne sono stati tanti altri che hanno fatto finta di niente, detto che però, l'abbiamo sottolineato, è detto, se i servizi sociali entrano in una casa in cui c'è un determinato contesto, accidenti, non accorgersi che c'è una persona quasi ridotta in schiavitù, comunque picchiata, comunque costretta a fare delle cose terribili, delle violenze terribili, non accorgersene non è proprio facilissimo. La domanda però, per onestà intellettuale, ce la dobbiamo porre, è anche possibile che questa ragazza terrorizzata, impaurita, a domanda come stai, abbia sempre risposto benissimo, poi, come dire, sta alla preparazione di chi ti ascolta, capire se il benissimo è un benissimo, dottoressa Bruzzone, poi arrivo Bezzonna, è un benissimo di circostanza, un benissimo perché sta veramente un fiore. Però, già il fatto stesso è che siano stati giustamente allontanati due minori, mi dice che la consapevolezza che quello fosse un nucleo dove i soggetti fragili evidentemente non erano trattati nella maniera più adeguata, diciamo che dovrebbe farlo sorgere. Quindi, quell'aspetto lì, è chiaro che un soggetto fragile dal punto di vista cognitivo è facilmente manipolabile e se in più ha paura perché se sbaglia a fare una minima cosa o comunque si sottrae delle richieste e prende un sacco di botte è chiaro che difficilmente potrà attivarsi per chiedere l'aiuto, non lo farebbe già di base, figuriamoci in quel tipo di scenario. Non c'è dubbio, ci sono dei passaggi dell'ordinanza, adesso magari riusciremo anche a vederli, Emiliano Bezzon che fanno veramente paura perché raccontano questa violenza, la violenza è sempre immotivata, ma ancora di più, totalmente gratuita per qualunque cosa. Sì, io immagino che in situazioni di questo tipo ne potremmo incontrare tantissime purtroppo. Io vorrei un attimino difendere i servizi sociali di questi comuni e le assistenti sociali. È vero che entrano anche fisicamente a contatto con queste realtà, però non carichiamole di eccessive responsabilità, nel senso che molto spesso non hanno nemmeno la capacità e l'accortezza di notare tutto ciò che noterebbe ad esempio un investigatore o noterebbero altri soggetti più qualificati. È altrettanto vero che in situazioni come queste sia le vittime che i carnefici sono molto bravi a nascondere le situazioni. Ci sarà un psicologo però che accompagna le vittime che hanno paura di parlare. Non credo. I sociali quando devono fare un'indagine per l'allontanamento dei minori vengono con lo psicologo, l'educatore e l'assistente sociale. Cioè uno psicologo entra in una situazione del genere e non si rende conto che c'è un soggetto debile. Non solo hanno il dovere di verificare se all'interno del nucleo familiare esistono risorse perché una era la mamma ma le altre non le zie e risorse alternative. C'è da dire questo è vero che i servizi sociali sono una specie in via di estinzione che hanno delle carenze di personale e di strutture drammatiche. E quindi avranno dovuto farlo molto di corsa molto velocemente e questo per dire... Si, si saranno concentrati solo sui due bambini e probabilmente... Poi qui io vorrei far notare un fatto al di là del vicino che si è mosso il fatto che si sia mosso anche un parente e quindi che anche la famiglia abbia spaccato dei veli di omertà che molto spesso invece ci sono e che tendono a gestire questi fenomeni in termini di vergogna collettiva. Hanno avuto il coraggio veramente di alzare un velo importante. Allora, intanto io ringrazio il sindaco Gianluca Gaetano il sindaco di San Ferdinando con la nostra Tatiana Bellizzi. Torneremo ancora a occuparci di questa sicuramente di questa vicenda per vedere come va a finire perché attenzione è ancora tutta da raccontare questa storia di questa povera cenerentola una cenerentola horror rispetto alla fiaba che quella diciamo ha un lieto fine meraviglioso questo lieto fine di questa ragazza di essere stata portata via da un ambiente così tossico un ambiente così violento. Non da un principe ma dall'autorità giudiziaria. La buona notizia è che questo bimbo e parliamo di Ryan sta meglio piano 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 ma ancora tanto c'è da dire e c'è da capire. Cominciamo con il nostro Stefano Ciardi. grazie a tutti.